Salve amici, siamo i giocatori per caso. Sono uscite poco fa delle nuove sfide. Facciamo subito la prima. Viaggia su un disco volante e vi mostro tutte le posizioni dove trovare un disco volante senza impazzire. Ma intanto iscrivetevi al nostro canale. Ci sono due modi per prendere un disco volante. Il primo è quello di cercare sulla mappa dove ci sono i dischi volanti. Abbattete uno di quelli che vola e glielo rubate all'alieno quando esce. Il secondo è prendere uno di quelli appoggiati già a terra. Qua ce ne sono ben sei che sono sempre lì. Basta andar lì e prenderli. Quindi è decisamente più veloce e meno problematica la cosa. A Moli c'è il primo. Ora io ero proprio sopra Moli e mi sono buttato come un pazzo qua. Vado subito a prendere questo disco volante. Sempre se qualcuno non mi ammazza prima. Penso di essere uno dei primi a venire giù. Vediamo gli altri. Sì, dovrei essere in una buona posizione. Devo riuscire ad atterrare e prendere il disco per fare la prima sfida. Bisogna fare 2000 metri. Ora vediamo se riesco prima che qualcuno mi spara o mi frega il disco. Sembra di sì. Ok, quindi basta atterrare, prendiamo il disco e ce la filiamo a gambe. Via. E qualcuno è salito sopra il disco. Mannaggia. Ah, deve ballare. Fa un balletto. Finché fa il balletto chi se ne frega. L'importante è che non mi spara perché se mi spara mi rovina tutto quanto. Effettivamente non può spararmi perché non ha preso armi. È salita con me quindi non può aver trovato armi. Allora non so se quella persona sta facendo la sfida insieme a me. Probabilmente sì. Perché la sfida è vola su un disco volante ma non c'è scritto guida. Anzi viaggia su un disco volante. Non c'è assolutamente scritto guida. Quindi geniale. Si può fare anche così effettivamente. Guardate che furbata. Vi atterrate su un disco volante di qualcuno e lo prendete. Ora scappo perché mi devo mettere in salvo. E lei mi sta salutando ovviamente. Siamo già a metà strada. Siamo già a mille. Dobbiamo fare a duemila metri. Si mette comoda. Questa non verrà mai successa. Dai. Vediamo di portarla via. Portiamola in salvo. Mi sta simpatica. Siamo a mille e cinque. Adesso sta facendo il balletto. Si mette lì con la sedia. Comoda comoda. È simpatica sta persona. Non so che sia. Allora. Dopo gli dico che andrà su YouTube. Se scopro come si chiama. Beh scherzi a parte. Avete visto potete fare così. O prendete il disco o otterrate sul disco insieme a qualcuno. lui vi porta in giro. Avete fatto i duemila metri. O che croce li ha finiti anche lei. Perché doveva farne solo duemila. Per cui l'ho fatta io. Li ha fatte anche lei. Adesso otterro. La metto in salvo. Io stacco. La sfida è finita. Potete fare così. Avete visto. Ciao ciao ragazzi. Dalla prossima sfida. Se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche. Grazie. Grazie a tutti